Siamo con Mr. Giuliani, una partita molto matura della sua squadra, un allungo in testa, anzi siete andati sotto, poi con la calma e il gioco siete tornati in vantaggio, avete vinto. Sì, è stata una partita molto combattuta, loro sapevamo che era una squadra molto ostica, ha dato il fiore da torcere a molte squadre di alta classifica e siamo contenti di questi tre punti che coronano ovviamente un campionato fantastico, vinto ovviamente immediatamente, questa era l'ultima giornata. Adesso ci andiamo a giocare le finali sperando di dimostrare ancora sul campo il valore della squadra. Dal punto di vista sia degli effettivi ma soprattutto delle tattiche ci sarà qualcosa di diverso, vedremo qualcosa di nuovo oppure si va sul sicuro e vedremo ciò che abbiamo visto in questo campionato dominato dalla sua squadra? È una squadra abituata a giocare con più di un modulo, ovviamente proteggiamo il 3-3-1, però in alcune situazioni abbiamo usato anche altri moduli. È una squadra camaleontica, sa giocare in determinate situazioni della partita con moduli un po' più offensivi se la partita li richiede ovviamente. Grazie mille e un bocca al lupo per le finali.